Buonasera a tutti, io avrei voluto il tempo necessario per poter preparare un discorso e non l'ho avuto per prepararlo. Questo perché nonostante questa delibera venga da lontano e sia stata grandemente partecipata con associazioni di categoria, associazioni dei cittadini, diffusa su internet e sono state diverse commissioni capitoline, i cui verbali sono online, sul sito di Roma Capitale e cui le persone di buona fede possono leggere, ancora esistono associazioni di categoria ai cittadini che dicono che non hanno potuto partecipare. Io non posso andare a casa di tutti i cittadini romani, io penso che la partecipazione che ha messo in campo il Movimento 5 Stelle e sta mettendo in campo in questa legislatura, per quanto mi è dato di conoscere, sia duemila volte superiore a quella di qualunque consigliatura comunale precedente. Poi se qualcuno pensa che partecipazione sia decisione ha sbagliato concetto. Questo consiglio, maggioranza e opposizione, è stato letto per rappresentare i cittadini e per fare scelte politiche. Le scelte politiche si fanno nei confronti della cittadinanza, nel rispetto di tutte le categorie e di tutti i portatori di interesse. I portatori di interesse non sono quelli che dice qualche disinformato e qualcuno le associazioni di categoria o alcune associazioni di categoria. I portatori di interesse sono tutte le persone interessate dal settore commercio che sono innanzitutto i cittadini. Sono quei cittadini che chiedono decoro, che chiedono legalità e non lo chiedono solo nel settore commercio. E sono anche gli operatori. Tutti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione e dare le proprie osservazioni e le ho recepite personalmente, le ho lette, ma non significa che verranno automaticamente accolte. Perché all'interno di questa proposta c'è la proposta politica del Movimento 5 Stelle. Altra nota di demerito, mi spiace dirlo, io contributi positivi nella Commissione ne ho visti pochi. Qui ci siamo scontrati da due proposte e ha ragione il Consigliere Corsetti. Il Consigliere Corsetti l'ha presentata prima la sua proposta per la delibera 35, io l'ho presentata dopo. Però sono due proposte profondamente diverse. Io non ho nulla da dire contro la proposta del Consigliere Corsetti, però mi dispiace sottolinearlo, ho dovuto lavorare duramente, anche le notti, per andare a ovviare a strane indicazioni ricevute in alcuni pareri. Io ho dovuto lavorare molto sui pareri degli uffici, poiché, tanto per citare il parere contrario della ragioneria, il parere contrario venne dato su un articolo e su una frase che è presente nella normativa vigente della 35 del 2006 ed è presente anche nella proposta Corsetti dove è stato dato parere favorevole. Quindi questo fatto deve far riflettere. Ci siamo confrontati poi da mesi col Dipartimento sviluppo economico. Io umilmente mi sono confrontato col direttore, con l'assessorato, perché sicuramente hanno proposto degli elementi migliorativi. Quindi noi, con due emendamenti che abbiamo protocollato, andiamo a recepire alcune indicazioni sia dalla ragioneria stralciando una frase che comunque era inutile nella delibera, quella incriminata che poneva il panere contrario, che poi tutte le eccezioni e le osservazioni che il Dipartimento poneva. Quindi state tranquilli, quelle osservazioni e quei pareri sono superati da questi emendamenti. Allora, apriamo una discussione seria, una discussione approfondita. Questo è un regolamento molto serio, molto dettagliato ed ha degli elementi molto chiari, molto chiari. Noi non siamo contro nessuno. Noi vogliamo un servizio per i cittadini e vogliamo il lavoro per gli operatori. Ma la situazione attuale del commercio su A Repubblica e del Comune di Roma non può rimanere quella che è. Bisogna intervenire. Bisogna intervenire cercando di limitare il numero dei posteggi e di non creare delle aggregazioni e dei monopoli. Bisogna intervenire riconducendo alla legalità quei posteggi che purtroppo sono stati concessi in modo non conforme alla normativa. Bisogna però, da un lato, perché nel nostro programma rilanciare i mercati. Quindi non è che noi stiamo colpendo tutti, stiamo creando un problema agli operatori come qualcuno vuole far credere. Noi stiamo creando la possibilità nei mercati di avere la somministrazione, il consumo sul posto, come c'è in mercati europei come la bocheria in Barcellona. Stiamo ripensando ai mercati in chiave sociale, oltre che commerciale. Quindi abbiamo previsto progetti di partecipazione dei cittadini che possono proporre un uso diverso del mercato che oggi langue dove ci sono solo 4 posteggi su 40 utilizzati. È inutile insistere lì solo col commerciale se non funziona. Evidentemente ci deve essere un altro polo aggregativo che può essere un punto municipale, può essere un punto di riuso e riciclo, può essere una biblioteca, un punto di ritrovo sociale. Uno va a fare la spesa e fa anche altre cose, incontra i suoi amici, parla, si prende un caffè al bar. Io penso che questa sia una bella rivoluzione. Permettiamo anche l'apertura serale, ma non la stessa apertura come qualcuno vuole far credere degli esercizi di liberazione pubblica, perché esistono delle differenze dal dentro mercato al fuori mercato. Ci sono degli obblighi di sicurezza, di vigilanza e igienico-sanitari. Tutti questi aspetti sono stati identificati, sviscerati, sono stati presentati e esposti un mese e mezzo su internet a chiunque voleva leggere queste cose. Nonostante questo, attacchi pretestuosi e falsi, falsi dei giornali, falsi! Come vi guardate allo specchio? Guardatevi allo specchio quando scrivete queste cose! Leggetevi quei regolamenti! Consigliere, ci rivolga ai suoi colleghi e alla Presidenza. Silenzio in aula. Prego, Consigliere. Io accetto la contrapposizione dicendo che non sono d'accordo con questo articolo. Per me non va bene. Ma non accetto quelli che dicono falsità. Non li accetto come interlocutori. per me non esistono. Non esistono. Allora, per ritornare a un aspetto normativo. Allora, un attimo solo, Consigliere. Un attimo solo, Consigliere. Chiedo al personale della Polizia Locale di identificare la persona e farla uscire dall'aula. prego, Consigliere. Vada avanti. Esistono purtroppo persone abituate a lavorare così, a non lavorare collaborando, costruendo. Purtroppo sono abituate a fare confusione, a creare confusione. non è il nostro modo di lavorare. Noi ci sediamo intorno a un tavolo, discutiamo di una proposta e la portiamo avanti politicamente, nel bene della cittadinanza. Se scontenta qualcuno ci dispiace, ma sarà comunque nell'interesse dei cittadini. Allora, io ancora una volta voglio invitare l'opposizione a fare un'opposizione seria, un'opposizione concreta, non un'opposizione di proclami pregiudiziali, basate non si sa su cosa. Entrate nel merito di un regolamento di 53 articoli, molto articolato, che va ad aiutare il commercio e a rilanciarlo. Entrate nel merito di questo. Non facciamo schieramenti politici a prescindere. Parliamo di attività produttive, non parliamo di destra, sinistra, centro. Non capisco se vogliamo parlare di attività produttive e allora siamo aperti al dialogo o se vogliamo orientare in qualche modo l'opinione pubblica in maniera falsa e sbagliata. Allora, l'esortazione è questa. Io mi sono confrontato anche oggi e ieri anche con gli uffici e ho anche ricepito ulteriori emendamenti migliorativi perché naturalmente tutto è perfettibile e esistono comunque sempre degli elementi di miglioramento. Noi siamo sempre aperti al dialogo di coloro che vogliono costruire un sistema regolamentare nell'interesse dei cittadini. Questo lo voglio ribadire. Lo abbiamo fatto e si vede dai nostri emendamenti. Io invito tutti coloro che amano la verità a informarsi, non a credere quello che gli viene raccontato dal vicino o da qualcuno che cerca di orientare i consensi a proprio vantaggio. Sono tante le cose che potrei dire. Sicuramente nel merito della discussione potremmo entrare più nel dettaglio. Voglio ribadire comunque che il Movimento 5 Stelle è contrario all'applicazione della BOL che sta nel commercio sulla Repubblica, come abbiamo detto. Ma il Comune di Roma è un'istituzione di livello inferiore. Quindi se verrà cambiata la legge noi, contenti, modificheremo questo regolamento e quindi stralceremo tutti i riferimenti alla 59-2010 e alla direttiva e all'intesa conferenza Stato-Regioni dal regolamento. Questo lo faremo volentieri perché in conformità con quanto il Movimento 5 Stelle e Ivan della Valle hanno sempre affermato che è il primo che ha presentato una proposta modificativa della legge. Se questo non sarà fatto a dicembre 2018, se i parlamentari non vorranno in questa consigliatura andare a modificare la 59, questo fardello rimarrà lì e il problema non sarà risolto. Il Comune di Roma sarà solo un attore minore di questo spettacolo. Questo mi preme dirlo e è importante dirlo. Noi ribadiremo questo, quantomeno nelle premesse di questa deliberazione. Grazie.